Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti finalmente in un nuovo video. Ci eravamo lasciati con un video dove vi dicevo che volevo farvi vedere prima della nascita la preparazione della borsa del parto, sia per me che per il bambino, l'organizzazione del fasciatoio prima dell'arrivo del bambino e così via. E alla fine non sono riuscita a fare proprio nulla perché inaspettatamente il bambino è nato. È nato con tre settimane di anticipo, doveva nascere il 16 di agosto e invece è nato il 27 di luglio. Questo video lo faccio per raccontare la mia esperienza del parto. Ovviamente è un'esperienza soggettiva, ogni parto è a sé e ogni esperienza quindi è diversa. Vi racconto quindi come è andata la mia, giusto perché a me piaceva guardare i video delle esperienze delle altre e vedere un attimo se c'erano delle cose diverse da un video all'altro oppure degli aneddoti simpatici che potevano capitare durante la fase del parto e così via. Quindi cominciamo subito con il racconto. Purtroppo, faccio questa premessa, il bambino è nato nella settimana in cui il mio compagno era in trasferta. Lui doveva andare via per una settimana per fare un corso e purtroppo il bambino è nato in quella settimana e quindi lui non ha potuto partecipare al parto. E ci eravamo messi d'accordo che comunque in quella settimana io non sarei stata sola perché sarebbe venuta mia mamma da Brescia per tenermi compagnia perché poteva succedere qualsiasi cosa e almeno avevo qualcuno vicino a me. Per chi già mi conosce e vede i miei video sa che io e i miei compagni abitiamo a Modena da soli senza l'appoggio di una delle due famiglie e quindi ci eravamo messi d'accordo in questo modo che mia mamma sarebbe venuta giù per quella settimana. Era mercoledì 26 e io e mia mamma abbiamo deciso di andare all'Ikea e siamo andate per fare un giro. Abbiamo comprato le nostre cose, io stavo benissimo, non avevo alcun tipo di dolore, nulla. Proprio mi sentivo bene come sono sempre stata perché durante la gravidanza non ho mai avuto nulla, nessun sintomo, non mi sono mai sentita incinta se non per il fatto alla fine di avere questa pancia gigante. Andiamo all'Ikea il mercoledì pomeriggio, arriviamo a casa, montiamo tutte le nostre cose e vado in bagno e vedo che ho una leggerissimissima perdita che poi in quel momento io la vedevo come chissà che cosa col senno di poi era una cosa proprio minuscola. Vado un po' nel panico però non dico niente a nessuno, non dico niente a mia mamma e vado e mi faccio una doccia. Mi lavo i capelli perché ho detto non si sa mai, metti che capita qualcosa e mi faccio la doccia. In quel momento ero sia tranquilla perché dicevo vabbè mancano tre settimane, è impossibile, è il primo figlio quindi nascerà anche dopo il termine e un po' agitata perché cavoli non c'era il papà del bambino, non c'era il mio compagno. Quindi niente, vado in bagno, faccio la doccia, mi lavo i capelli mi prendo un attimo di tempo per metabolizzare che poi alla fine non riuscivo a metabolizzare nulla faccio la doccia, mi asciugo i capelli e così via vado da mia mamma e lei era stanchissima perché avevamo camminato tutto il giorno si era appena messa sul divano e dico mamma dobbiamo andare in ospedale, serissima e lei mi dice ma no è possibile, stai scherzando, non è possibile e dico mamma dobbiamo andare, ho delle perdite e io ero agitatissima in quel momento, mi fa, fammi vedere quindi le faccio vedere queste perdite e lei mi dice Ila guarda che non devi partorire cioè non è niente e io inizio ad arrabbiarmi con lei e le dico no tu stai sminuendo le mie perdite e così via ero in crisi quindi niente, partiamo, andiamo in ospedale in ospedale mi fanno una visita e mi dicono ah vabbè, a me in macchina io correvo praticamente ah ma non riuscivo a starmi dietro arriviamo a pronto soccorso e dico all'infermiere io ho delle perdite ematiche, devo partorire ed ero serissima ma non avevo nessun dolore, giuro, niente di niente l'infermiere mi guarda e mi dice ma spiegami come sono queste perdite e gli dico come sono queste perdite ma alla fine non erano praticamente nulla mi portano comunque a fare il controllo ovviamente in ostetricia mi visitano e la dottoressa o l'ostetrica insomma chi c'era lì mi dice guarda siamo in fase preparatoria però guarda che ti manca veramente ancora tanto per partorire sei completamente chiusa stai tranquilla, vedrai che tornerai tra un bel po' va bene, io a quel punto mi sono tranquillizzata e il tracciato era andato tutto bene non c'era nulla che rilevasse qualcosa per cui il parto fosse imminente e quindi vado a casa tranquilla ceno, vado a dormire e verso le tre di notte mi sveglio di colpo mi sveglio perché avevo una sensazione strana mi sentivo sporca insomma io prima di andare a letto mi ero messa l'assorbente e mi sentivo sporca però ho pensato vabbè ho fatto la visita hanno utilizzato lo speculum può essere che questa grande perdita perché ero piena diciamo e questa grande perdita può essere data dall'utilizzo dello speculum perché mi capita quando magari faccio le visite ginecologiche il pap test e così via che poi ho delle perdite però quella non era una perdita io sono sempre il mio ciclo è sempre stato regolare e le perdite che ho avuto cioè che avevo prima erano proprio poche ok però in quella circostanza era veramente una cosa molto abbondante comunque sono le tre del mattino io anche lì non dico niente perché non avevo fastidi però ogni 5-10 minuti dovevo andare a cambiare un assorbente perché continuavo a perdere sangue non dico nulla anche perché mia mamma stava dormendo volevo aspettare di sentire delle contrazioni perché fino a quel momento io non avevo niente e mia mamma si sveglia per le 5 viene in camera da me e mi dice ila tutto bene e dico guarda mamma ho queste perdite sono abbondanti e lei dice fammi vedere quindi lei faccio vedere le perdite che avevo mi dice guarda che forse è meglio che andiamo in ospedale perché queste sono delle perdite quindi alle 5 la prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è stata colazione perché al corso di parto dicevano che si potevo mangiare durante il travaglio però che comunque poi mi sarebbe venuta molta fame non volevo andare là con la fame perché non sapevo se effettivamente in travaglio poi avrei avuto la capacità o la voglia di mangiare quindi non volevo essere a digiuno facciamo colazione con calma anche perché non avevo niente e intorno alle 7 e qualcosa inizio ad avere dei dolori delle contrazioni che per me erano forti che però poi ho capito che non erano forti però non si capisce dopo quindi niente e ho queste contrazioni anche lì al corso di parto dicevano guardate che le contrazioni arriveranno molto distanti a 20 minuti una a 30 minuti una a 10 minuti saranno molto irregolari e io ho cominciato ad avere delle contrazioni che ho iniziato poi a monitorare perché ho scaricato subito l'applicazione che monitora le contrazioni avevo queste contrazioni ogni 5-8 minuti erano tutte molto brevi lo dico a mia mamma cioè teniamo monitorato insieme e andiamo in ospedale quindi erano circa le 8 andiamo in ospedale con queste contrazioni tra i 5-8 minuti e mi visitano di nuovo in ostetricia e mi dicono che effettivamente avevo cominciato il travaglio quindi ero già nel travaglio attivo e tutta la parte prima io non ho mai avuto contrazioni stavo bene o se le ho avute non mi sono neanche resa conto perché non avevo dolori e mi dicono che ero quindi in travaglio attivo che però le contrazioni erano ancora troppo lunghe no non erano ancora regolari a 5 o a 3 minuti e quindi mi hanno detto vedi tu se tornare a casa e farti tutto il travaglio a casa oppure rimanere qua in ospedale mi hanno detto che ero dilatata di 2 cm e alla fine decido di venire a casa e veniamo a casa e lì iniziano i dolori forti 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 ho fatto delle docce calde credo di aver fatto non so se 1 o 2 docce calde non mi ricordo e so solo che ero piegata vicino al letto a cavalcioni quindi coi gomiti sul sul piano del letto sul materasso e un dolore che io non ho mai provato che nessuno secondo me prova se non quando partorisci un dolore che mi prendeva la pancia i reni fortissimi e alla fine sono ritornata in ospedale verso mezzogiorno una roba del genere e perché le contrazioni erano cominciate a diventare ogni 2 minuti in ospedale mi hanno detto vieni quando hai le contrazioni tutte regolari ogni 3 minuti ho iniziato verso la fine quindi quando poi abbiamo deciso di andare in ospedale ho fatto un periodo in cui ho avuto una decina di contrazioni ogni 3 minuti quindi eravamo pronti per andare finché sono iniziata a diventare a 2 minuti e in quelle contrazioni io sentivo l'esigenza di spingere quindi vado là mi portano in strapparto mi mettono questo mi mettono il tracciato non ce la facevo più ho iniziato ad avere dolori fortissimi sempre più forti sempre più forti sempre più l'esigenza di spingere in ospedale sono state l'ostetrica che mi ha seguito è stata super carina perché mi faceva fare qualsiasi posizione che io volessi mi consigliava a lei delle posizioni in modo tale da alleviare i dolori che avevo alla pancia alle gambe perché avevo forti dolori eppure alle gambe alle braccia cioè un dolore che mi prendeva tutto il corpo io avevo durante l'apertura della cartella avevo fatto e avevo scelto insomma di fare anche l'epidurale quindi avevo già firmato tutti i moduli e volevo fare l'epidurale arriviamo al punto in cui l'ostetrica mi dice guarda visto che hai firmato il foglio per l'epidurale la vuoi eventualmente vado a chiamare il dottore perfetto va a chiamare il dottore il dottore viene e mi dice Ila guarda ti devo fare delle domande a cui mi devi rispondere in modo coscienzioso e io ok non ho fatto in tempo a dire ok ti ascolto ti rispondo che mi è arrivata una contrazione fortissima per cui io lì dovevo spingere per forza quindi il dottore parla con mia mamma perché in quel momento ero fuori da ogni mondo e parla con mia mamma e dice guarda signora che è tardi per fare l'epidurale è meglio che continua così perché altrimenti si va solo a rallentare tutto il processo insomma e lo riferisce anche a me e io ero disperata perché io non ce la facevo più io volevo l'epidurale però alla fine il dottore mi ha detto guarda io te la posso anche fare però vai solo a rallentare io non volevo rallentare volevo finire assolutamente quel momento e alla fine decido di non fare l'epidurale perché il bambino stava praticamente uscendo e infatti da lì a un'oretta il bimbo è nato è nato alle 3 0 1 quindi alla fine sono stato in ospedale in sala parto due ore circa e i dolori forti forti che ho avuto sono stati diciamo di 4 ore a far sì 4-5 ore e è stato un parto diciamo un po' divertente perché in tutto ciò sono successe delle cose simpatiche tipo quando ero a casa che ho deciso di farmi la doccia calda io avevo freddissimo un freddo mai avuto prima ed ero sotto l'acqua bollente al massimo non volevo restare sola in bagno quindi è rimasta mia mamma con me e le ho fatto chiudere la finestra e chiudere la porta non si vedeva niente perché c'era un calore in questo bagno pazzesco e la mamma mi dice io la posso uscire perché ho veramente caldo e dico no chiudi tutto chiudi fa freddissimo chiudi chiudi e mi dice ma posso uscire no tu devi restare qua e lei vabbè è rimasta dentro la paretta era tutta sudata appoggiata al muro perché c'era un caldo che secondo me dopo se restavo dentro ancora due minuti sveniva e quindi questa era stata la prima parte divertente e la un'altra parte divertente è stata quando ah ancora prima e la prima volta che siamo andati in ospedale quindi il mattino del giovedì il alle 8 e mia mamma anziché portarmi nel parcheggio del pronto soccorso mi ha portato nel parcheggio dell'obitorio e dico direi che è il posto sbagliato io scendo dalla macchina inizio a correre verso il pronto soccorso mi dice io guarda che non devi partorire cioè stai correndo vedrai che quando partorisci non ti verrà da correre effettivamente poi la terza volta quando sono tornata in ospedale il giovedì verso mezzogiorno ero devastata e quel viaggio lì è stato devastante perché avevo contrazione nei due minuti non riuscivo a stare seduta riuscivo solo a stare con le ginocchia per terra e i gomiti appoggiati a qualcosa tant'è che in macchina mi sono messa così sul sedile e mamma mi dice vabbè se ci fermano ci accompagneranno in ospedale perché vedono che sei in questa situazione arriviamo in ospedale scendo dalla macchina non riuscivo a fare un passo un passo non riuscivo a farlo perché nel momento della pausa tra una contrazione e l'altra sia ok che non hai dolore ma non riuscivo a muovere le gambe perché ho troppa fatica tant'è che una ragazza che aveva finito il turno in ospedale stava uscendo dal pronto soccorso e mi fa vado a prenderti una sedia a rotelle perché sennò io avevo partorito nel parcheggio non riuscivo a muovermi poi quando andiamo al pronto soccorso che c'era ancora lo stesso infermiere della sera prima e mi affida a un altro infermiere perché non riuscivo a camminare e mi doveva accompagnare il reparto prendono questo infermiere mi prende e vedo che quando mi porta poi lui svolta a destra usciti dal pronto soccorso quando noi invece le altre volte andavamo a sinistra e andrà in un ascensore dedicato a loro e quindi non c'è il problema di io sale e scende sale e scende in continuazione va in questo ascensore entra e dice ah no abbiamo sbagliato io panico perché cavoli lavori in ospedale e sbagliare parto va bene quindi mi riporta torniamo indietro va poi effettivamente a sinistra saliamo in ascensore noi dobbiamo andare al terzo piano lui scende cioè adesso e mamma gli diceva guarda che dobbiamo salire poi alla fine avevano chiamato l'ascensore da sotto delle colleghe sue e quindi abbiamo dovuto siamo dovuti scendere le colleghe hanno visto che stavo partorendo quindi non sono salite e poi siamo andate su poi una cosa brutta però che mi è capitata per cui ci sono rimasta è stata un'ostetrica che è stata molto cioè un po' sgradevole ok e avrà avuto non lo so le scatole girate o quello che è sta di fatto che io ero in travaglio ero la terza volta che andavo lì non riuscivo a muovermi facevo quasi fatica a parlare quando mi portano in ambulatorio perché prima di portarmi in sala parto mi hanno portato in ambulatorio a fare la visita ginecologica e io ero mi è venuta una contrazione e questa ostetrica pretendeva che io riuscissi ad alzarmi camminare andare a sdraiarmi sul sul lettino tirare sulle gambe aprirle perché lei doveva visitarmi certo io lì mi sono arrabbiata con questa ostetrica le dico cavali un attimo cioè sto avendo una contrazione aspetta un minuto e poi salgo sul lettino e lei pretendeva che lo facessi in quel momento quindi lì mi sono un po' alterata e infatti poi questa ostetrica non l'ho più vista perché sennò avrei passato un parto bruttissimo e poi un'altra parte invece divertente è stata quando ero in sala parto stavo avendo questa contrazione e ad un certo punto sento un trapano in quel momento mi sono fermata perché dovevo scolce mi sono girata ho detto ma da dove proviene questo rumore che sono da sola cioè non so perché io in quel momento avevo la contrazione e pensavo al trapano boh non so e mi sono fermata mi si è bloccata la contrazione e se l'ostetrica che mia mamma mi dicono ma pensa partorire non trappano che c'è di fuori e e lì poi mi sono messa a ridere perché era una cosa illogica e vabbè insomma alla fine di tutto alle 3.01 è nato Tommaso è stata un'esperienza bella chi dice che i dolori si dimenticano non è vero cioè vabbè forse perché adesso è passato un mese adesso Tommaso ha un mese due giorni però i dolori non li dimentichi non li dimentichi passano però non li dimentichi anche perché c'è un dolore fortissimo come fai a dimenticarti un dolore così forte cioè di aver provato un dolore così forte non per me è impensabile e quindi me lo ricordo però passa una volta che effettivamente il bambino esce non si hanno più dolori del parto poi anche lì io pensavo che partorisci basta non hai più dolori però nel momento in cui mi è uscita la placenta anche lì mi dicevano che si sente una contrazione e poi fai uscire la placenta io non ho sentito niente avevo il bambino me l'hanno messo subito qua tutto bello sporco mi è uscita la placenta e io non ho sentito niente infatti poi la placenta me l'hanno messa a fianco e tutto il tempo in cui sono stata in sala parto con il bambino su di me avevo ancora la placenta attaccata e dopo un'ora e mezza circa due mia mamma ha tagliato il cordone ombelicale comunque dicevo pensavo partorisco basta non ho più dolori e invece purtroppo mi era rimasta della placenta dentro attaccata e quindi hanno chiamato un po' di dottori infatti da che era solo l'estetrica c'era l'estetrica io e forse un'altra infermiera hanno iniziato ad arrivare altre persone secondo me erano tipo sei persone cinque sei persone e è arrivato il medico che mi ha fatto tipo un raschiamento un dolore allucinante poi ero devastata già dal parto che ok è durato poco ma è stato intensissimo e in più ancora questo dolore in più poi mi hanno messo dei punti come lacerazione ho avuto una lacerazione di primo grado e mi hanno messo tre punti soli più che altro estetici e però ecco io ho subito anche quella cosa lì e infatti nei giorni dopo facevo fatica a stare seduta sul letto o sulla sedia insomma non riuscivo a stare seduta però non ho avuto problemi nel camminare dopo un po' che si sta in piedi avevo un senso di dolore pesantezza però poi riuscivo a camminare riuscivo a fare tutto tant'è che dopo il parto mi sono subito alzata e sono riuscita a farmi una doccia e c'è stata l'ostetrica che anche in quel momento mi ha aiutato perché è venuta lì e mi aiutava un attimo con la spugna a lavarmi dietro e le gambe ad asciugarmi e così via quindi anche lì è stata molto gentile nell'aiutarmi e basta sono stata in ospedale due giorni due notti e mi hanno tutti i giorni insomma dove ho partorito e le ostetriche sono state molto disponibili tranne quella per cui vi ho già raccontato però tutte le ostetriche e le infermiere sono state molto gentili e disponibili ho tenuto sempre il bambino vicino a me quindi sempre in stanza con me perché non ho mai avuto problemi quindi non me l'hanno mai portato via e e passa quindi è stata diciamo una bella una bella esperienza che rifarei ora no perché il dolore è troppo forte e no passerà molto tempo ah per quanto invece riguarda l'allattamento non faccio un video a parte perché è proprio breve anche lì per l'allattamento ho fatto un pochino fatica all'inizio perché il bambino non si attaccava tanto e poi vabbè è anche vero che il bambino all'inizio ha uno stomaco minuscolo e quindi basta pochissimo per riempirlo però non si attaccava tanto e non si attaccava nemmeno bene poi dopo due giorni quando sono tornata a casa la domenica mi sembra non mi ricordo sono tornata a casa il sabato la domenica insomma la sera ho avuto tra il pomeriggio e la sera mi è arrivata la montata lattea e il bambino è stato praticamente otto ore senza mai attaccarsi è arrivato la sera che piangeva disperato perché ovviamente aveva fame però non riusciva ad attaccarlo quindi siamo andati in ospedale mi hanno spremuto un po' di latte mi hanno consigliato di comprare dei paracapezzoli della mamma che tuttora sto usando e in quel modo il bambino si è poi attaccato da lì però non sono più riuscita a togliere il copricapezzolo perché Tommaso si è abituato a quell'attrezzino e ogni tanto provo a staccarlo e attaccarlo direttamente al seno però non non si attacca e inizia a cercare il seno a destra e a sinistra però non si attacca se invece metto il paracapezzolo lì invece si attacca benissimo e e prende insomma fa la soppoppata per ora noi stiamo facendo un allattamento misto quindi sia mio sia quello artificiale perché è un bambino che sta attaccato tutto il giorno e non riuscirei a fare nulla infatti quando poi ho fatto il controllo con la pediatra mi ha visto estremata mi fa senti dagli delle aggiunte in modo tale che tu riesci a riposare riesci a fare delle cose riesci a uscire riuscite ad avere una vita altrimenti non si faceva nulla e quindi per ora stiamo facendo così ci troviamo bene abbiamo trovato il nostro ritmo e basta e niente quindi questa è stata la mia esperienza del parto e dell'allattamento e se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se volete raccontarmi la vostra esperienza lasciatemi sotto i commenti che vi leggo e vi rispondo e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao